Ecco, questa vi ha portata, ecco, abbiamo questa parte, qui vi ha portato, vediamo il 1960, c'è una signora che allora deve portare in città, cosa diceva? I chiamanti portano sempre bene e volent'essere un, due, tre, quattro, più a un e-mail, ecco, questo è già, poi vediamo il porto qui, ecco, questo è la signora, ma osservate l'icolografia del sarocco, questo è l'icolografia del sarocco bolognese, questo viene rinnovato nel sarocco bolognese, avete potuto dire che questo è tutto parlando del bolognese, è il consultante, ma osservate bene, e qui, nel centro, c'è la chiave, è la chiave per sapere, c'è la faccia, c'è la faccia, c'è la faccia del prevede, quindi l'hanno, quindi, disegnato, per questo fatto che vediamo gli altri che servono, ecco, qui leggiamo il porto dello stradino, passando tutta te, la vita è il conto, ecco, e vedete appunto il viso di questo stradino, che rappresenta nella tradizione popolare un ragazzo giovane, e grandi, vecchi e 30 anni, osservate come diversa il viso dall'altro, ecco, vediamo le regine, allora qui non ci sono più cose, facciamo le regine, comunque leggiamo le regine anche? Allora, quante regine, le nazi a Asia, tra i regine, le uspiedere, due regine, le attristate, una regina, le uspiedere, ecco, anche queste le funzioni sono grandi, ecco, vedete le regine, queste sono le quattro regine, questa qui, è la proposta, droga, vero, la volontà, prima non lo aveva droga, ma perché, dicono che è la madre, la donna di casa, ma vedete come le differenze dalle altre che le hanno messe, tutte con, eh, cioè più robusta e una signora di casa, osservate invece la consultante e il profilo, appare nel profilo, perché in questi posti c'è tutto il discorso che siamo comuni, nessuno, c'è giudizio, siamo in tanti, come anche in quella che viene definita la realità, diciamo, la verità è il profilo, perché la verità è negativa, e poi qui appare la legispera, e noi vediamo la legispera che la cosa è negativa, noi vediamo la legispera che la corona è tutto e questo è il profilo di nero, quindi, eh, è un'inconologia che rispecchia, un'inconologia, siano tanti che vi hanno generato, ecco, questa è la definita, la cupena, la cupena, e che sarebbe finito una ragazza giovane, quindi, infatti, è disegnata con il fiume, vedete anche il fiume qui che ha, che quindi è una ragazza giovane, fiume al vento, quindi, anche questa è la traspettazione, se ne vediamo avanti, vediamo anche il fiume al vento, questi qui ne manco tutti, perché questo qui, ce ne sono due di questi, eh? Sì, ma il buonerecchi è... Non si sente più, no, troppo. Eh? Ora si ritrozzo il microfono e... Eh, ora si ritrozzo, hai ragione. Solo che il telefono rimbomba, allora si dicevamo che... Sì, sì. Scusa. Non si sente più, allora. Il buonerecchi, perché i buonerecchi, perché siano stati sostituiti, perché, eh, a volte c'era, appunto, c'era l'operatore, l'imperatrice, il papa e la trapezza. Questo, eh, fa tutto capo a un discorso storico, ehm, in cui in quel periodo, a causa, appunto, del scattivo, dei consenti che la gente non voleva, sono sostituiti da queste case, che il papa e la trapezza, l'imperatore e l'imperatrice. E se ho cercato di questo, che è l'attivamento politico e che è l'immagine? All'ultato con la malattia. Sì. Questo è quello che ho cercato di questo, l'imprevisto, l'operato. Sì. Sì. La parcerata. Qui, se vedete, perché questo tiene definito l'imprevisto, la parcerata. La parcerata è come un arcobaleno, come è disegnato un arcobaleno. Quindi, eh, l'arcobaleno è arrivato all'imprevisto. È arrivato all'imprevisto, ehm... Quindi, eh, porta una malattività. Quindi, è proprio un tipologizia che anche spegna l'inconologia. Siamo avanti, cosa c'è ancora, quando... Ma, la parcerata... È un problema che viene detto... Ha stato i fessi. Ha stato i fessi. Del'imprevisto. È, perché la tante della nette twelve quantity è il credito. Sono importanti perché viene detto. Questo è questo è il credito. I piatti batti sono più fissimi. Per andare al piano alto è più fatica. è solo la finestra, è aperta. Solo questa finestra è questa per metterla. E in questo modo, bisogna affузdificare e arrivare Booz dove si trova una benefitata. Allora, prendiamo il coro. Ecco, questa è una bella, ci sono belli gli scopi in tradizione popolare anche, ne le diamo, no? Allora, anche le dieghe, viene con sulle piazza, a zena tras una con paella, fa in tras. Ecco, queste sono parti popolari, ma sono conosciute, le donne a Bologna, che sono, quelli sono altri anni maggiori. Ma, prendici, parli di tre. Un altro altro, un altro altro. Che qui è un coro sardo, no? No, io ho una cazza preda. Però, tutti dicono, io mi fanno paura, è lo scherzo, è lo scherzo. Però c'è tutto un'operazione storica, quella notte che cammina a cavallo, e questa volta ti amo. Allora ci portiamo a riuscire a fare ai quattro cavaliere dell'Aposte, in cui il cavaliere bianco era questo, addirittura dicono che era Gesù Cristo, il Messia, e poi perché tredici, tredici erano i apostoli, e tredici sono le apostole, tredici sono le apostole, e nella tradizione popolare è una carta che conferma, una carta che incoraggia, vediamo questa frase, ma neanche le galline, questa la troviamo nel Bernal, il famoso Bernal, la troviamo qui che è stato uscito nel 1850, di Franco Brattetti, che si trova alla Università di Malogna, e vediamo avanti le biblioteche, ecco, queste sono tutte le 3500, che si trova, ecco, l'alto stanno troviamo qui che è 350, troviamo tutte con la sua terra e il suo terra, che si trova avanti, stiamo avanti, vediamo, lo vediamo dopo, magari, ecco, stiamo avanti, i martelli di carta, ve li faccio vedere perché sono loro, i martelli di carta portano agli altri, come le parlano degli altri, i martelli di carta agli altri, e dopo le andiamo a cercare, le andiamo a cercare solito, portano proprio ai martelli che viene bussato alle carte, torniamo quindi nell'altro, scusate, eh? Grazie. 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 Grazie.